Dessde 1 di anuari 2015 direcci a Arbeid in Ondershug usa il fattore 2.1 per moltiplicare il salario minimo per arrivare al limite di salario che avuta 3437 florini con 700. Usa il limite di salario qui per determinar chi è stato il bode di lei di ordinanza laborale. Poi, la formula qui non è stata per determinar il limite di salario minimo. Dessde 1 di anuari 2015 direcci a Arbeid in Ondershug che non si affermi, che cosa mi ha fatto, è il fine. Noi, non si affermi il contratto, principalmente per me firma un contratto che è autonessabile per se chiedere o riuscire informazioni che arre del l'abore del departamento. Il departamento di l'abore si affermi il contratto, se si affermi il contratto, se si affermi il contratto, se riuscì, non si affermi il contratto, Non c'è la legge, perché il contratto non fa nessun contratti non ha fatto nessun contratti, ma non c'è il tuo lavoro, ma non si può fare il lavoro, ma si può accompagnare il lavoro. Se un lavoro ha chiamato di una domanda, se un lavoro ha chiamato metà una persona, se non può fare una domanda, in un'attività, in un'assemblea per cercare l'affreddimento di lavoro nel Departamento di Labor. Secondo lei, un diritto è un dettagatore per affilare il suo mese a un sindicato. Poi, se il dono di lavoro quita la libertà di un empleato per rassi e sa qui, e non è punto a qui di un contratto, è contro la lei. Un dono di lavoro non lo può rincare di un contratto, ma è contro la libertà di un empleato per affilare il suo mese, o per l'expressione, come per il suo mese, noi non siamo attrappati una decisione così. Naturalmente, se un contratto è stato stipulato, se non è stato un empleato, non ho bisogno di una prima firma, vincere il contratto, che non si può rincare, non si può rincare, se può rincare, se può rincare, e se non ci può rincare e si può rincare, se può rincare il contratto, se può rincare il contratto, ma si può rincare il contratto, Grazie a tutti.